Tra i resti dell'acropoli pelasgica d'Arpino si possono vedere grossi falli scolpiti. Arpino, Arpine in dialetto laziale meridionale, è un comune della provincia di Frosinone i cui abitanti sono detti arpinati. È uno dei centri più antichi e rilevanti sul piano culturale ed artistico della provincia. La città di Arpino si sviluppa sul versante sinistro della media valle del fiume Liri su di un sistema collinare ad un'altitudine che va dai circa 450 metri sul livello del mare del centro cittadino all'acropoli detta Civita Vecchia che si trova a 650 metri di altezza. Il territorio per lo più votato all'agricoltura, numerosi sono gli oliveti secolari, e tuttora scarsamente urbanizzato, è ricco di boschi. Il toponimo Arpino, ovvero Arpinum, nei tempi classici, si pensa derivi dal fatto che il paese, visto dall'alto, presenta una forma che ricorderebbe quella di un'arpa. Non si conosce l'esatta data della fondazione d'Arpino, anche se ritrovamenti archeologici ne dimostrano le origini volsche, a cui sono connesse le vicende dei rostri del foro, preda romana dopo la battaglia navale a largo di Azio e di Coriolano. La tradizione locale e una serie di iscrizioni ancora visibili fanno risalire la fondazione della città al dio Saturno o ai Pelasgi, analogamente alle altre città del Lazio meridionale, cinte da possenti mura megalitiche e dette città Saturnie. Tale tradizione di fondazione è scolpita in una lapide in lingua latina, posta sulla porta medievale di ingresso da est ad Arpino, detta Porta Napoli. La traduzione italiana suona così. O viandante, stai entrando in Arpino, fondata da Saturno, città dei Volsci, municipio dei Romani, patria di Marco Tullio Cicerone, principe dell'Eloquenza e di Caio Mario, sette volte console. L'Aquila Trionfale, preso il volo da qui all'impero, sottomise a Roma tutto il mondo, riconosci il suo prestigio e vivi in salute. L'Aquila Trionfale, di cui parla l'iscrizione, la quale spicca il volo Inc ad Imperium, è anche celebrata in una fontana in pietra calcarea, situata nel centro del paese, risalente probabilmente alla seconda metà del 1600. Arpino fu teatro di scontri tra Romani e Sanniti, fino ad essere conquistata dai Romani nel 305 a.C. Due anni dopo ottenne la cittadinanza romana, sine suffraggio, ossia senza diritto di voto, e divenne prefettura. Nel 188 a.C. ottenne definitivamente la cittadinanza romana, di pieno diritto. La sua importanza crebbe fino ad ampliare il suo territorio che raggiunse a nord-ovest Casamari, anticamente Cereate, e a sud Arce. Gaio Mario ne fu cittadino, come ho già detto, e il suo nome è ricordato non solo nell'etimologia della località di nascita, allora Arpinate, Casamari. Infatti la traduzione orale della città di Arpino sostiene che Mario, dopo aver sconfitto i Germani ad Acque Sextie, l'odierna A.N. Provence, e nella battaglia dei Campi Raudi, all'apogeo della sua gloria non dimenticasse la sua patria d'origine e, disponendo della Gallia Transalpina come terra di conquista, donasse ad Arpino quei territori le cui rendite servirono a mantenere i templi e gli edifici pubblici della città.